Gli alberi tristi del linciaggio, che hanno per frutti amari i nodi scorsoi, lo conoscevano. Joe, che qualche volta non aveva un dollaro per la sua sete, ma alla sua Colt 45 non mancavano mai sei proiettili. Gli alberi tristi del linciaggio, che hanno per frutti amare i nodi scorsoi, lo conoscevano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Giù, una pistola che non aveva mai mentito e che aveva tante tacche per tanti orologi fermati. la sua inesorabile Colt 45. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. avevi detto così, vediamo se è vero, raccogli il fucile, carica e spara.